Su Padova e sul Padovano prevediamo per domani cielo in prevalenza sereno, anche se nel pomeriggio è possibile un passaggio di nuvolosità stratificata del tipo medio-alta, ma che non darà effetto. Per domenica lo stesso, cielo poco nuvoloso, con la presenza però di qualche nube stratificata. Questo a significare che con l'alta pressione e con il passare dei giorni avremo di nuovo in pianura formazioni di nebbie che saranno sempre più insistenti. Tempo stabile infatti è previsto per quasi tutta la prossima settimana.